Sono Gabri Costa ragazzi, in questo secondo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 1 dobbiamo usare Johnny Cage, sconfiggeremo per la prima volta le Kalima, però possiamo usare Adam come cameo, avete capito? Johnny Cage ha un compagno che si chiama Adam. Non avevo mai visto queste Kalima, è la prima volta che le affronto le Kalima. E poi vediamo che succederà una volta tolte di mezzo queste bestie. Bene, vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Non ho tempo di morire, sfidate.